13 anni e 4 mesi di reclusione per Paolo Carbone, il 57enne che a giugno del 2023 a Venetico uccise con un colpo di mazza fatale l'amico Sergio Romeo, di 48 anni. Lo ha deciso il gruppo di Messina Tiziana Leanza al processo di primo grado che si è svolto con rito abbreviato. Per il giudice si è trattato di omicidio preterintenzionale. Disposta anche l'interdizione legale perpetua dai pubblici uffici, oltre al risarcimento dei danni ai familiari della vittima. Per Carbone, assistito dall'avvocato trovato, l'accusa aveva chiesto 16 anni di carcere. Secondo quanto emerso dalle indagini e poi dal processo, Romeo sarebbe morto per un debito di appena 20 euro. Prima di morire, i medici del pronto soccorso di Milazzo aveva detto di essere caduto da una bicicletta. La procura di Messina, dopo la morte dell'uomo, ha però aperto un'inchiesta sull'accaduto. La procura di Messina, però, dopo la morte dell'uomo, ha aperto un'inchiesta sull'accaduto. Sulle prime, tutto faceva propendere ad una morte dovuta alle lesioni riportate dopo la caduta dalla bicicletta. Dopo le indagini è emerso però un altro quadro della situazione. L'evento non era riconducibile a una caduta, bensì ad una aggressione subita. I fatti sono avvenuti il 6 giugno 2023 a Venetico, una banale rissa tra i due all'esterno di un bar. Si erano conosciuti in carcere, ma da tempo erano in conflitto per un piccolo prestito che Romeo aveva chiesto a carbone. Il 48enne fu colpito più volte con violenza con un'ammazza da baseball, che gli provocò gravi lesioni anche agli organi interni, che lo hanno portato poi al decesso in ospedale. Dopo l'aggressione, il 57enne, verosimilmente per far perdere le tracce, si allontanò da Venetico, recandosi in provincia dell'Aquila. A niente è servita la sua fuga. I militari sono riusciti a localizzarlo in Abruzzo, a Castel di Sangro, per poi eseguire l'arresto. Adesso la condanna in primo grado.